Ciao a tutti gli amici di AndroidBlog.it, stiamo provando la videocamera da 5 megapixel dell'HP Slate 7 HD, prodotto appunto da HP. Il tablet in questione presenta una fotocamera da 5 megapixel in grado di registrare e catturare video fino a 1080p. Vediamo un po' la messa a fuoco che è completamente assente durante la registrazione del video, quindi o mettiamo fuoco all'inizio oppure rimarremo a metà strada. Proviamo un pan veloce e proviamo ad andare anche contro luce un po' per vedere come si adatta anche se la luce davvero non è molta oggi. Vediamo anche la possibilità di zoomare durante la registrazione fino a 2,9x, ovviamente il risultato non è dei migliori.